Buongiorno a tutti voi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi un video sui profumi, però un video un po' particolare che farò in compagnia di Stefania, della mia amica Stefania, del canale Parvana Stefania. Poi vi lascio ovviamente tutte le indicazioni nell'info box, come anche tutti i link dei profumi che vi andrò a nominare, a raccontare. Allora, ho conosciuto Stefania da poco tempo, diciamo, ma ci siamo trovate subito molto in sintonia. Siamo due ragazze, molto giovani e carine, e abbiamo in comune davvero tantissime cose, come per esempio la creatività. Lei ha fatto della creatività anche il suo lavoro, io faccio della creatività il mio hobby. Ci sentiamo quasi giornalmente, ci scambiamo appunto le nostre opinioni, parliamo della nostra vita e quindi abbiamo pensato di creare una rubrica mensile che partirà da questo mese, dove parleremo dei profumi ispirati al mese in questione. Quindi, una sorta di rubrica mensile e non sarà un raccontarvi le note, o meglio, sì, vi diremo brevemente le note olfattive, ma proprio le sensazioni e il perché abbiamo scelto i profumi del mese che vi andremo a raccontare. Allora, i profumi di dicembre ovviamente raccontano tante cose, cioè il mese di dicembre io ho pensato di dividere questi sei profumi, perché sono sei, in tre categorie, profumi dell'attesa, i profumi della gioia e i profumi della festa, che sono per me i tre momenti di questo mese di dicembre che, così, si ispirano anche un po' al periodo dell'avvento, al periodo poi della festa del Natale e al periodo poi che c'è dopo il Natale, che è quello delle feste di fine anno, dell'ultimo dell'anno. Così ho pensato di dividerli in queste categorie. Sulle labbra mi vedrete un colore che non è un mio solito, ma ho deciso di osare e mi sta piacendo ed è il Lipstick Matte che avevo comprato nel kit di Kiko, questi piccolini lipstick, mi stanno piacendo tantissimo. Questo è proprio un bel colore e diciamo quello meno forte di tutti e tre. ed è la colorazione 02 della collezione, non vedo niente, no, non è questo il nome della collezione, ma io non vedo niente comunque, Joyful Holiday Colorazione numero 2. Sono dei piccoli kit in modo che così riesco a provarli e a vedere un po' come sono. È molto buono, è un matt che rimane sulle labbra quasi tutto il giorno. Una volta che si asciuga non lo tirate via neanche con il cancellino. Ma partiamo dai nostri profumi. Allora, io li ho raccolti in questa meravigliosa scatoletta che avevo comprato da Tiger e iniziamo a raccontare. Allora, come sempre sapete che io non sono un'esperta, assolutamente, non lo voglio neanche diventare, ma sono solo un'appassionata e vi racconterò quello che lasciano a me, le emozioni che mi regalano e perché li ho pensati in questo mese di dicembre. Allora, il primo profumo è The Library of Fragrance Gingerbread. Ovviamente, dal nome, potete capire che profuma di gingerbread, ma non il gingerbread biscotto classico. Come vi ho già detto, non mi piacciono tantissimo sulla pelle i profumi che sanno di cibo, anche se sono buoni, anche se sono dolci, anche se sono vanigliati. quelli li lascio alla cucina, preferisco scegliere altro per le fragranze. Questo profumo e l'altro sono due profumi veramente molto, molto, molto particolari che presumo non possano piacere a tutti. Adesso lo spruzzo e vi dico perché l'ho scelto per il periodo dell'attesa. Allora, innanzitutto vi racconto che le note sono pampepato, note dolci, vaniglia e zenzero. Cosa sento io? Io sento molto il pampepato, ci sento lo zenzero, le note dolci non le sento, ma sento una spezia che potrebbe essere non la cannella, quel preparato di spezie che si usa proprio per i biscotti al pampepato, che è un mix di oh mamma mia, come si chiamano? i chiodi di garofano, la cannella, sì, ma ci sento proprio molto il chiodo di garofano, la vaniglia, ma in maniera molto molto leggera, un profumo non dolce, un profumo molto speziato che ho scelto per le prime settimane perché dicembre inizia con questa voglia di preparare i biscotti, preparare i dolci, ci sono magari le giornate piovose, le giornate un po' più buie, ovviamente stiamo entrando nell'inverno e quindi c'è quella voglia di intimità, di famiglia, di creare un momento insieme, quale momento migliore se non quello di preparare dei dolci, preparare magari dei biscotti che così ci regalano momenti di gioia, momenti di felicità con chi li stiamo preparando o anche soltanto pensando a chi li vorremmo regalare perché il bello di fare i regali almeno per me è proprio quello di pensare a chi lo sto regalando e questo mi procura davvero tanta gioia, mi piace tantissimo fare i regali, in questi ultimi anni ho imparato a fare i regali solo alle persone che per me contano veramente e soprattutto che possano apprezzare il mio regalo, che possa essere un lavoro fatto da me, un lavoretto fatto da me che possa essere anche un regalo acquistato ma che ho acquistato pensando al bene che voglio a quella persona, pensando a quello che le può piacere, pensando ai suoi gusti e pensando alla gioia che lei o lui avrà nell'aprire il mio regalo e quindi questo profumo davvero è un profumo di introduzione al mese di dicembre di aspettativa di attesa proprio un profumo dell'avvento di attesa di questi momenti che poi fioriranno sbocceranno in una gioia di qualcuno a cui io poi farò il mio regalo i miei biscotti la mia torta il mio dolce un pane dolce un pane con l'uvetta un pane coi canditi un panettone ho regalato anche dei panettoni nella mia vita perché li ho fatti li ho fatti io quindi un profumo che ci introduce che ci regala quell'attesa quella voglia di pian piano arrivare senza fretta e questo profumo mamma mia è davvero buonissimo è un'acqua di colonia che io ho acquistato su notino di questa appunto di questa casa che fa delle fragranze molto molto particolari ce ne sono tantissime il costo è medio perché per 30 ml io l'ho pagato 15 euro e 10 quindi non è tantissimo ma non è neanche un profumo super low cost allora la durata di questo profumo è abbastanza intensa dura su di me 5 ore ma potrebbe essere anche indicato da spruzzare nell'ambiente da spruzzare nella cucina da spruzzare nel luogo dove noi creiamo le nostre ricette da regalare per il costo che ha ovviamente io non lo uso così ma lo uso soltanto su di me e mi piace davvero tantissimo ecco dopo due orette che voi l'avete spruzzato esce leggermente la fragranza della vaniglia ma non è una vaniglia stucchevole non è una vaniglia da dolce è veramente buonissimo è molto molto particolare e essendo una fragranza unisextra potete condividere con i vostri figli con i vostri mariti con i vostri compagni con chi volete insomma io ovviamente la custodisco gelosamente anche perché i profumi qui piacciono solo a me a Mattia ma Mattia ha i suoi e io ho i miei quindi The Library of Fragrance Gingerbread è il primo profumo per introdurci in questo mese di dicembre questo mese ricco di aspettative ricco di gioia ricco anche di memoria di ricordi di persone che magari non sono più con noi ma come vi ho detto nel video scorso mi piace non farmi prendere dalla malinconia o comunque da una malinconia che è legata a un'emozione a un ricordo bello i nostri pranzi di Natale ovviamente adesso oramai dove non ci sono più i nonni dove non ci sono più gli zii anziani sono ma ti ricordi cosa diceva il Gianca ma ti ricordi cosa diceva il Giovannino ma ti ricordi ma che ridere quella volta che lo zio quindi è comunque un momento veramente molto molto piacevole che ci fa pensare anche alle persone che non ci sono più ma in maniera gioiosa adesso come sempre vado perché è suonato il campanello rieccomi col fiatone ho fatto le scale sono arrivati i miei pacchi di Shane e quindi poi dopo li aprirò con molta gioia ah aiuto allora quindi per la prima settimana abbiamo trovato il profumo ideale poi sempre dello stesso brand Christmas Tree albero di Natale giusto? ho detto giusto? allora questo è un profumo che vi introduce nella settimana degli addobbi mamma mia è buonissimo ragazzi è il profumo dell'albero di Natale ma non degli alberi di Natale che purtroppo adesso abbiamo sintetici se non avete la fortuna di avere un giardino o comunque un albero vero io l'albero vero non riesco più a farlo perché poi si secca e perdono tutti si perde tutti gli aghi e poi i codi se li mangia e quindi non è proprio il caso allora un profumo da albero di Natale quell'albero di Natale che voi non so vedete in quei film americani dovete sapere che io sono un appassionata di film di Natale e sul canale 8 del satellitare tutti i giorni trasmettono due film natalizi forse anche dal primo prima del primo di dicembre e io mi li guardo tutti mentre sto rigovernando mentre sto stirando e insomma poi me li guardo anche a pezzi nel senso che siccome sono sempre gli stessi l'anno prima magari vedo l'inizio l'anno dopo vedo la metà e l'anno dopo ancora vedo la fine quindi alla fine nel giro di tre anni li vedo completi ma non li guardo tanto perché voglio vedere il film intero sì ok sono carini sono belli ma la storia è sempre quella infatti qua mi prendono in giro perché dicono oh mamma mia ancora un film così cioè sempre così chi arriva nel paesino sperduto e deve così magari sistemare qualche situazione o di famiglia o di lavoro si incontra con la persona amata all'inizio non vanno d'accordo poi alla fine sboccia l'amore insomma alla fine è sempre questo e il tema fondamentale di questi film è il Natale e nei film americani l'albero di Natale è la parte principale oltre a tutti gli addobbi che ci sono che fanno diventare delle case pazzesche e quindi questo profumo mi ricorda proprio quell'atmosfera gioiosa di preparazione dell'albero di Natale della scelta degli addobbi il profumo dell'albero fresco della vite ancora sporco di non di rugiada scusatemi adesso non mi viene la parola di di linfa ma il mio papà la usava che mi faceva fare degli impacchi pazzeschi vabbè se mi viene il nome lo sapete che io non è che non mi preparo ma questa cosa mi è venuta in mente adesso e quindi comunque un profumo molto molto fresco allora abete zenzero arancia e menta profumi agrumati profumi aromatici profumi verdi l'abete si sente davvero davvero tantissimo ma non è un abete finto un abete vero c'è quel profumo fresco che vi regala quasi il freddo delle giornate in cui voi nei vostri sogni andate a scegliere il vostro albero di Natale quel profumo di neve misto a a ghiaccio misto a fondo di bosco innevato quel profumo che secondo me è perfetto per i giorni in cui preparate l'albero di Natale io infatti stamattina questo me lo sono spruzzato perché anche se l'otto generalmente noi facciamo tutti gli addobbi in questi giorni non siamo riusciti e lo faremo proprio tra oggi e domani e quindi questo è il profumo davvero che ci regala quell'energia quella voglia di addobbare di appendere tutti i ninnoli di andare a ricercare quel particolare addobbo che vi ricorda qualcuno che vi ha regalato magari un amico o un'amica particolare e che volete assolutamente che sia presente sul vostro albero un profumo di di festa di bosco cioè continuo a spruzzarlo ma è buonissimo allora l'intensità di questo profumo non è altissima dura su di me circa due orette e poi lo vado a rinnovare tra l'altro questo ha un prezzo leggermente maggiore di quello che vi ho fatto vedere prima perché per 30 ml costa 21,40 euro quindi non è proprio neanche pochissimo è una colonia ma a differenza di di questo profumo questo devo dire che è molto molto meno intenso però è un po' anche il profumo dell'abete se voi siete fuori lo sentite e poi magari quando siete in casa sparisce ecco un profumo meraviglioso che vi consiglio per il periodo della preparazione dell'addobbo della casa per aspettare il vostro Natale poi abbiamo il periodo dell'attesa più forte che sono proprio i dieci giorni prima del Natale e per questo periodo io ho scelto questa chicca è un profumo anche questo molto particolare ho letto dalle recensioni che ad alcuni piace ad alcuni no un profumo definito unisex ma secondo me prettamente maschile proprio per il mix di note che vi sono vi sono incluse allora questo profumo racconta è magico perché sta bene sia alle donne che agli uomini qualsiasi persona troverà qualcosa di particolare perché è un profumo legnoso orientale e gourmand me l'aspettavo questo l'ho comprato al buio mi sono fatta affascinare dalle note è un profumo in una boccettina di vetro satinato che tra l'altro mi piace tantissimo pesa un quintale pesa tantissimo e per 100 ml l'ho pagato 13,30 euro su notino e non me ve lo dico ma non so cosa vi racconterò allora è bite al bakor ve lo leggo come si scrive mettete pure il non vi piace andatevene ma io non sono capace di di leggere questo questo nome e dovrebbe essere la marca e il profumo si chiama kashab kashab al houd ok è un profumo intrigante misterioso lo definisco un profumo profondo perché dura tutta la giornata ma davvero ma non è intenso e fastidioso ha una durata adesso lo spruzziamo di qua mamma mia è buonissimo all'interno noi troviamo vaniglia rosa muschio bianco cedro note acquatiche limone fragranze orientali e la tipologia di profumo allora il limone non lo avverto tanto avverto questo mix molto profondo di vaniglia rosa muschio bianco io ci sento anche il profumo del camino lo trovo un profumo affumicato ma un affumicato buono quindi un profumo che misterioso come è misterioso il mistero del Natale insomma di questo Gesù Bambino che ogni volta nasce che ogni volta ritorna e secondo me è proprio la bellezza di questo periodo non posso non far riferimento ovviamente alla mia fede nel senso che lo sapete per me il mistero del Gesù Bambino è proprio un mistero davvero bellissimo che ci regala ogni anno sempre delle emozioni nuove a casa nostra non è mai arrivato Babbo Natale ma non perché io disprezzi la figura di Babbo Natale Babbo Natale mi piace tantissimo come personaggio ma da noi sin da piccola sia io che Paolo è sempre arrivato Gesù Bambino e quindi non ho neanche avuto fortunatamente il problema di svelare il segreto di Babbo Natale perché i miei figli aspettano tuttora Gesù Bambino è vero sono grandi hanno 24 23 18 anni ma il mistero di Gesù Bambino ritorna e ritorna sempre e quindi Gesù Bambino è quella persona quel bambino che ogni anno ci regala qualcosa di bello e ci porta qualcosa di bello quindi questo è secondo me il profumo proprio dell'attesa misteriosa della settimana dei 10 giorni prima del Natale un profumo che mi regala una sensazione di pace è orientale sì ma non è troppo presente un profumo che dura sulla mia pelle davvero tutto il giorno forse soltanto verso sera diventa intimo ma non è neanche mai preponderante appena lo si spuzza si sente e lo avvertono le altre persone ma lascia una scia di incenso un profumo di incenso non da chiesa un profumo di incenso misto a delle resine ecco resina si chiamava quella di prima dell'albero di Natale vedete che pian piano mi ritornano le cose un profumo resinoso di incenso di fumo un profumo da baita da montagna che ci accoglie quando dopo una passeggiata nella neve fino al ginocchio si fa fatica si arriva sudati si entra in questo rifugio nella vostra baita c'è questo cammino che ci scalda ma c'è quel cammino con della legna magari leggermente umida perché è da tanto che non lo accendiamo più quindi fa fatica a partire quindi si sente il profumo del muschio del sottobosco di quell'inverno di bosco ghiacciato dove c'è il muschio che ripara diciamo le radici degli alberi e si sprigiona tutto insieme ma in maniera molto bilanciata molto delicata quindi un profumo particolarissimo che capisco perché le recensioni che ho trovato dicano che non a tutti possa piacere perché è davvero molto molto particolare lo definirei proprio un profumo misterioso e quindi perfetto per me per attendere proprio con gioia il momento della nascita di Gesù bambino arriviamo ora al giorno di Natale proprio il giorno di Natale la vigilia e il giorno dopo e mettiamoci anche Santo Stefano dove ho scelto un profumo che è paragonato come dupe di Montparis di Yves Saint Laurent io ho avuto Montparis di Yves Saint Laurent e posso dire che questo profumo ci somiglia veramente veramente parecchio un profumo che ho portato per molti anni quando ero più ero più giovane forse il profumo di Yves Saint Laurent è più floreale e questo lo sento più fruttato se allora questo è il profumo fashionista di Buy a New Brand un brand che ho scoperto da poco e del quale ho acquistato altre due fragranze e le sto provando ma questo mi è piaciuto innanzitutto tantissimo per la boccettina che ricorda molto diciamo la boccetta di Mon Paris come vi dicevo le note sono bacche rosse pera datura o datura datura dovrebbe essere perché l'accento non è sulla che ho scoperto essere una un fiore che sboccia un fiore ornamentale che sboccia di notte e che ha un profumo molto molto persistente e la chiamano la trombetta ha comunque un fiore fatto a campanula e se non l'ho capito male se non ricordo la chiamano la trombetta di notte non vorrei dirvi una stupidata comunque sono andata a cercarlo perché non sapevo che tipologia di profumazione regalasse poi abbiamo musco bianco e paciuli allora io all'interno di questo profumo ci sento tantissimo le bacche rosse bacche rosse e pera secondo me la fanno da padrone e perché l'ho scelto per il giorno di natale perché è un profumo della festa è un profumo che paragonato ovviamente a quello che dicono sia il dupe mi ha fatto sempre sentire sicura è un profumo che mi regala la sicurezza nel giorno di natale allora natale è il giorno in cui io ho sempre cucinato per tutti ho dovuto decidere il menù e quindi ho bisogno di un profumo che lo spruzzo e via cioè parto e dico ok oggi sono perfetta così anche se magari non lo sono è un profumo che quando io me lo sento addosso mi fa dire ok Eli sei nel posto giusto al momento giusto un profumo che ha una durata abbastanza alta su di me dura quasi tutto il giorno comunque dalle 5 ore se le fa tutte mi piace tantissimo sento proprio la bacche rosse ma ci sentirei anche una mela questa pera dolce la buccia della pera dolce poi alla fine diciamo si trasforma in floreale quindi esce il paciuli ed esce probabilmente questo profumo di datura che io non conosco ma che siccome c'è questa nota floreale è sicuramente questo quindi un profumo che mi fa sentire elegante sempre a posto anche se il giorno di natale sono vestita con una tuta e con una maglietta che poi si sporca perché non metto il grembiule un profumo che mi regala tranquillità perché i primi anni in cui io dovevo cucinare per tutte per tutta la famiglia ero sempre in ansia che la carne non venisse giusta che mi giudicassero perché il pane magari non era come se lo aspettavano e insomma mi sono sempre sentita un po' giudicata sbagliando ero una giovane sposina quindi avevo sempre paura ovviamente del giudizio di mia mamma su quello che facevo perché ovviamente quello che faceva lei era sempre più buono riusciva sempre meglio che era anche vero però io mi dovevo fare insomma la mia esperienza adesso cioè scialla vai ti metti il profumo sai già quello che hai preparato sei sicura che è buono magari hai fatto le prove nelle settimane prima ovviamente faccio sempre le prove del piatto principale nelle settimane prima e quindi un profumo che mi regala gioia perché il giorno di Natale è il giorno gioioso è un giorno pieno di allegria anche se i bambini ormai sono diventati uomini e donne è un giorno che ci fa entrare nella festa più piena insomma ci regala quella gioia che sì è data dall'arrivo dei regali dal fatto di stare insieme dalla nascita di Gesù per chi ci crede ma è anche dato così un po' anche dallo scambiarsi gli auguri in quel giorno magari con delle persone che senti una volta ogni tanto che però sai che a Natale è il momento in cui li risenti e insomma è il profumo secondo me della gioia e questo rispecchia perfettamente qual è il mio stato d'animo del giorno di Natale non vorrei dilungarmi tantissimo già mi sono dilungata lo so concludiamo la giornata di Natale che per me è sempre più bella verso la fine perché tutti se ne vanno e quindi io riesco comunque a rilassarmi anche se adesso sono diventata più forte più sicura di me stessa e arriviamo ai giorni che seguono quindi ai giorni in cui si comincia a pensare alla festa di fine anno cosa facciamo dove ci troviamo quest'anno per esempio io sono stata invitata a cucinare insieme ad un gruppo di amici per il pranzo per la cena scusate dell'ultimo dell'anno in parrocchia dove ci saranno poi tanti anziani dove ci sarà la tombolata insomma un modo un po' diverso di essere in festa anche facendo qualcosa per qualcun altro e che profumi ho scelto allora principalmente per la settimana che va dal Santo Stefano all'ultimo dell'anno ho scelto questo che è un profumo scoperto da poco di cui io mi sono innamorata allora Tesori d'Oriente Persian Dream profumo aromatico melograno e tè rosso per me io non l'ho trovato da nessuna parte ma non sono neanche andata tanto a cercarlo per me melograno di bottega verde è il dupe di questo profumo che probabilmente sarà il dupe di qualcos'altro non lo so comunque quando io l'ho messo al lavoro mi hanno detto ah ma caspita ti sei spruzzata melograno di scusate di l'erbolario non di bottega verde ti sei spruzzata melograno di l'erbolario no ma questo è il profumo eh no mi sono spruzzata Tesori d'Oriente Persian Dream e quindi ho comprato Tesori d'Oriente di Persian Dream a tutte le mie colleghe un profumo rosso se io ascolto questo profumo ascolto come se mi parlasse sì i profumi mi parlano io vedo il profumo proprio della festa non tanto legata a quello che è Natale così ma proprio della festa delle lucine del preparare il salsicciotto con le lenticchie è il profumo della festa un profumo freschissimo molto molto fresco adesso vi dico quali sono le note allora è un profumo nuovo stato lanciato da Tesori d'Oriente nel 2021 le note di testa sono arancia mela rossa e menta vero le note di cuore sono melograno te rosso legno di tec e gelsomino le note di base sono muschio bianco ambra e vaniglia allora devo dire che le note più profonde tipo l'ambra la vaniglia il muschio bianco io le avverto pochissimo avverto tantissimo il melograno la mela rossa e l'arancia c'è anche il te rosso ma anche il gelsomino non lo sento è un profumo molto molto fresco un profumo energizzante che ti regala quella voglia di fare quell'energia che ti dà la possibilità di andare oltre anche magari le tue forze oltre alla tua stanchezza un profumo gioioso radioso energizzante buonissimo me lo sto spruzzando adesso sono un connubio di profumi ecco dopo le prime spruzzate la menta la dice perché io sento anche la menta ah sì sì giusto la menta la dice arancia melarossa e menta la menta si sente subito nelle note di testa e comunque rimane regalando quel sentore di freschezza che vi dura tutta la giornata un profumo spettacolare se non lo conoscete ma penso che ormai lo conosciate tutti perché io con Tesori d'Oriente sono arrivata veramente dopo anni è un profumo da avere un profumo della festa proprio della festa a parte il pack che è meraviglioso però è un profumo che vi regala energia energia pura arriviamo all'ultimo giorno dell'anno questa è una chicca questa è un'acqua profumata l'acqua profumata champagne toast di Bath & Body Works anche qui ho scoperto questo brand molto tardi ho comprato qualche sapone qualche detergente ho comprato tre acque profumate due le ho destinate alla primavera estate perché sono molto fiorite molto fruttate ma questa ragazzi allora io adoro lo champagne lo beffuto penso una o due volte nella mia vita lo sostituisco col prosecco questo è il profumo della festa dell'ultimo dell'anno non la festa mia dove andrò a cucinare in una sala ad oratorio ma è il profumo della festa di una donna che entra in un locale illuminato con quei lampadari a goccia che regalano quelle stelle luminose meravigliose con un vestito color champagne lungo con lo strascico spalle coperte capelli raccolti in uno chignon trucco leggerissimo quasi non si nota e ha questo profumo il profumo dello champagne con le bollicine mamma mia si sente la pesca perché lo champagne o il vino bianco o il prosecco con una fetina di pesca diventa meraviglioso ci sono le bollicine quindi questa donna è una donna elegante sicura di sé che ha voglia di divertirsi ma in maniera controllata più che controllata in maniera raffinata cioè è il profumo di una donna raffinata io me lo metterò anche se avrò il grembione sporco sicuramente la note dell'ultimo dell'anno vi dico le note di testa sono champagne e tangerino le note di cuore sono nettarina frutto della passione ribers nero e ibisco le note di base sono zucchero vaniglia prugna e muschio ragazzi un'acqua profumata che la fa da profumo è veramente buonissima se lo spruzziamo anche qua ci sono le bollicine ci sono le bollicine in questo in questa mist per il corpo in questa acqua profumata e non la definirei un'acqua profumata perché ha una durata media sulle 4 ore ma rinnovata ritrova quella freschezza quella briosità ecco un profumo brioso un profumo da usare assolutamente la notte dell'ultimo dell'anno bellissimo 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 un profumo che mi sta piacendo tantissimo lo metto anche prima della notte dell'ultimo dell'anno ma sicuramente lo metterò la notte del 31 di dicembre bene ho finito i miei sei profumi spero di avervi regalato dei momenti piacevoli anche con le mie solite confusioni ma va bene siamo qui per divertirci per rilassarci e non per essere dei professori o per andare all'università non ho intenzione di insegnare nulla a nessuno soltanto di stare in vostra piacevole compagnia in questo dicembre che ormai è già quasi alla metà e quindi ci fa essere tutti un po' più in agitazione dobbiamo pensare ai regali dobbiamo pensare al menu dobbiamo riuscire a fare tutto anche in ufficio prima della chiusura e quindi c'è questa agitazione c'è questa voglia di arrivare dappertutto ma sappiamo benissimo che sicuramente qualcosa rimarrà indietro e pazienza pazienza perché non è la fine del mondo ma così passiamo qualche minuto insieme in allegria in simpatia e ci facciamo un po' di compagnia piacevole io ringrazio Stefania non ho visto cioè ho visto solo in fotografia i suoi profumi lei ha visto i miei non ci siamo però raccontate niente quindi sono davvero molto 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 curiosa di andare a scoprire le sensazioni invece che hanno regalato a lei i suoi profumi e le emozioni perché abbiamo anche questo in comune non siamo tecniche non siamo dei nasi profumieri ma raccontiamo attraverso i nostri profumi le emozioni che ci regalano e quello che ci fanno rivivere e che poi ovviamente cambierà da persona a persona anche sullo stesso profumo e questo ce lo siamo già detto io vi auguro un buon pomeriggio spero di riuscire a caricare velocemente tra oggi e domani il video e così vi terrò compagnia qualche minuto che sarà sicuramente più di qualche minuto vi abbraccio vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video ciao sono sempre io e adesso va di moda che io faccia il pezzo finale dopo mi sono accorta degli ultimi tre profumi di non avervi detto il prezzo non è una cosa importante in questo video il prezzo ma sapete benissimo che sono molto precisa e quindi vi lascerò tutte le indicazioni dell'info box ciao a presto a presto